La Procura di Prato ha chiuso una parte dell'inchiesta sugli abusi sessuali denunciati da due fratelli pratesi quando ancora minorenni frequentavano la comunità ai discepoli dell'annunciazione soppressa dal Vaticano a dicembre dello scorso anno per irregolarità. I sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci hanno inviato l'avviso di conclusione delle indagini al fondatore della comunità Don Giglio Giglioli, 73 anni, e a un religioso tornato a vita laica di 37. Per entrambi, che hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dai magistrati o per presentare una memoria, l'accusa è violenza sessuale aggravata. La parte dell'inchiesta arrivata al traguardo è quella che riguarda la denuncia del maggiore dei fratelli, presunta vittima oggi alla soglia dei 30 anni, che nei giorni scorsi è stato interrogato in sede di incidente probatorio e ha confermato le accuse ripercorrendo i fatti che sarebbero cominciati nel 2008 e si sarebbero protratti negli anni. Per l'altro fratello, che accusa più persone, una dozzina complessivamente gli indagati, la procura sta invece aspettando l'esito di una perizia prima di tirare le conclusioni. La comunità religiosa aveva diverse sedi, la principale in Via Bologna, in seguito al trasferimento da Iolo, e le altre in Garfagnana e in Lunigiana. Nel corso dell'incidente probatorio, il giovane avrebbe parlato di atti sessuali con quello che allora era un seminarista e di approcci da parte di Don Gilioli sfociati in toccamenti e strusciamenti. Episodi avvenuti quando la comunità religiosa era ancora Iolo, un racconto ritenuto credibile dagli investigatori e in linea con le dichiarazioni rilasciate fin dai primi momenti dell'inchiesta, nata lo scorso inverno, in seguito alla segnalazione presentata dagli assistenti sociali che si occupano delle due presunte vittime degli abusi e della loro famiglia.